Musica Muore ad Agrigento dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola durante una lite. Si tratta di Roberto Di Falco, 38 anni, originario di Palma di Montechiaro. Un ristoratore di lingua glossa ha denunciato per prode in commercio, sospesa all'attività, sequestrata a mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione. Cambia il paesaggio agricolo siciliano, con i colossi e le multinazionali che investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ad Augusta per premiare i liceali vincitori del concorso Il mito e il mare. Le estasi di Santa Rosalia, fino al 19 maggio, nella Pinacoteca di Villa Zito, saranno esposti alcuni straordinari capolavori dedicati alla patrona di Palermo. Prima edizione di Media News, appuntamento di sabato 24 febbraio, dopo i titoli d'apertura, ecco la prima notizia. Muore ad Agrigento dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola durante un'elite. Si tratta di Roberto Di Falco, 38 anni, originario di Palma di Montechiaro. Lo scenario del fatto di sangue è una concessionaria di auto al villaggio Mosè. Ci potrebbero essere rivalità commerciali dietro la rissa che ha portato alla morte di Roberto Di Falco, 38 anni, originario di Palma di Montechiaro, raggiunto da un colpo di pistola all'addome ieri nel primo pomeriggio al villaggio Mosè, quartiere di Agrigento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Falco, commerciante di auto usate, insieme ad altre due o tre persone, si sarebbe recato alla concessionaria che è stata scenario della sparatoria. Lì sarebbe scoppiata una violente elite con i proprietari, connessa appunto probabilmente a questioni di concorrenza. E a un certo punto sarebbe stata estratta la pistola che ha sparato alcuni colpi, un paio dei quali hanno raggiunto Di Falco. Non è ancora chiaro chi abbia usato l'arma da fuoco e quale sia l'esatta dinamica del ferimento. Si cercano adesso telecamere a circuito chiuso che possano avere ripresi i fatti. Di Falco era rimasto ferito all'addome ed era stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al lavoro gli agenti della squadra mobile e della scientifica della questura di Agrigento, coordinati dal procuratore Giovanni Di Leo. Al momento ci sarebbe un fermato che gli inquirenti stanno ascoltando per ricostruire la dinamica dei fatti. Marte di Grasso Amaro per un ristoratore di lingua glossa. I carabinieri lo denunciano per frode in commercio e sospendono l'attività. Sequestrata a mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione. Militari della stazione di lingua glossa supportati dai colleghi del Nucleo per l'Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione di Catania, NAS, ed alcuni ispettori nazionali del lavoro del contingente ispettivo siciliano, al termine di accertamenti hanno denunciato il ristoratore del comune di lingua glossa per frode in commercio. È stata rilevata la presenza di derrate alimentari non perfettamente conservate e di animali vivi custoditi, per le quali i militari hanno richiesto l'intervento di personale dell'ASPE di Catania e del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, unità operativa di Giarre, con i quali hanno poi proseguito l'ispezione alle cuscine e al laboratorio dell'esercizio commerciale. All'interno di due frigo congelatori sono stati trovati alimenti sfusi e cotti privi di tracciabilità, mentre in un altro refrigeratore erano presenti carni fresche sfuse di origine bovine, equina, suina e avicola, confezionate all'origine, poi arbitrariamente congelate e riconfezionate con della pellicola, la quale aveva prodotto una grande quantità di cristalli di ghiaccio sui alimenti, grosse quantità di disturbanti e persino diversi salumi rosicchiati dai roditori. In quello più piccolo, invece, erano stati collocati alimenti di origine vegetale in promiscuità, con scarti di lavorazione e ghile, con il pavimento coperto da grosse tracce di muffa, direttamente a contatto con gli alimenti, due pappagalli tenuti in gabbia, mentre nell'altro deposito tre frigoriferi, due verticali e uno orizzontale, tutti contenenti carne bovina e suina, priva di tracciabilità. I locali, invece, sono risultati in condizioni di carenza di igiene per la presenza di umidità sulle pareti, incrossazioni di sporco pregresso e fuligine, mentre sia la pavimentazione che i piani di lavoro necessitavano di pulizia ordinaria e straordinaria. Tutti i prodotti, trovati dai militari, quantificati in mezza tonnellata circa, è stata sottoposta a sequestro penale e il proprietario è stato denunciato per frode in commercio. Saldato il sussidio di gennaio ai lavoratori ASU della regione siciliana, l'obiettivo resta comunque la stabilizzazione. Finalmente ieri è stato firmato l'impegno di spesa per il sussidio del mese di gennaio. Ieri una delegazione di lavoratori ASU insieme a OSB è stata ricevuta dal dirigente del servizio del Dipartimento Lavoro, del servizio del precariato ASU, dove abbiamo esposto tutte le criticità che i lavoratori hanno manifestato in questi due mesi senza sussidio. C'è stato garantito che col nuovo sistema score tutto avverrà in maniera più rapida. Si attende ora lunedì, sicuramente verrà firmato anche l'impegno di spesa del mese di febbraio. Abbiamo esposto tutte le criticità, i pagamenti, i lavoratori dopo 25 anni senza sussidi, senza contratti, e hanno ancora, purtroppo ci sono queste problematiche che speriamo che vengano superate. Ecco, però ovviamente voi puntate alla stabilizzazione. Esatto, con la legge di bilancio approvata, l'articolo 10, si parla di stabilizzazione. Siamo in attesa dei rilievi del MEF che arriveranno in questi giorni, nonché dalla parte del Consiglio dei Ministri entro fine marzo, il 20 marzo, si dovrebbe pronunciare il Consiglio dei Ministri e siamo in attesa. Naturalmente la preoccupazione è quella che si è ripetuta negli anni scorsi, ossia mancanza di copertura finanziaria al regime, sostenibilità della spesa e le capacità assunzionali. Molti enti utilizzatori, molti enti locali sono in predissesso di sesso finanziario, quindi sarà realmente difficile, qualora passasse la legge, andare a stabilizzare quei lavoratori, quelle platee di lavoratori dove nei comuni ci sono tantissimi lavoratori ASU. Per concludere, voi di cosa vi occupate e soprattutto quanti siete? Allora, secondo quest'ultimo impegno di spesa di gennaio 2023, i lavoratori ASU attualmente sono 3.646, di cui 269 impegnati in diretta utilizzazione dalla Regione nei beni culturali. Questi soggetti si occupano della fruizione dei musei, dei siti archeologici, dei parchi archeologici e all'interno anche dell'amministrazione dei beni culturali. La restante platee invece è impegnata negli enti locali o ancora purtroppo nelle cooperative. Quindi c'è una varietà di soggetti in diversi enti utilizzatori e naturalmente le problematiche sono differenti. Continua lo stato di agitazione dei dipendenti comunali a Palermo al centro delle richieste, un buono pasto adeguato al costo della vita e l'aumento del monte ore. Prosegue lo stato di agitazione dei dipendenti comunali a Palermo e il sindacato Funzione Pubblica CGL che segue l'avvertenza a incalzare sottolineando che la protesta non si ferma. Chiediamo l'intervento del prefetto. L'avvertenza continua. Ieri intanto si è svolta una nuova assemblea dei dipendenti comunali nel salone della CGL Palermo per dare seguito alla mancata convocazione del 22 da parte della Dirigenza Generale del Comune e allo slittamento del Consiglio Comunale che avrebbe dovuto discutere delle vicende del personale. L'assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale e rinvio dell'incontro al 5 marzo, due settimane dopo l'assemblea Sittin nell'altro di Palazzo Comitini, ha aumentato lo stato di disagio dei dipendenti comunali che aspettano risposte da parte del Comune. Al centro delle richieste, l'aumento del monte ore è un buono pasto adeguato al costo della vita. I lavoratori hanno stabilito di proseguire con lo stato di agitazione e indire una nuova assemblea nell'altro di Palazzo Comitini per il 7 marzo alle 10. Due giorni dopo, la convocazione da parte dei vertici del Comune, affermano Luigi D'Antona e Saverio Cipriano, responsabile aziendale e responsabile enti locali per la funzione pubblica CGL Palermo. L'avvertenza continua, chiederemo anche l'intervento del Prefetto sulla vicenda, perché con l'amministrazione si arrivi a un accordo che permetta di realizzare i punti della piattaforma presentata dal sindacato. Cambia il paesaggio agricolo siciliano, con i colossi e le multinazionali che investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico, tanti proprietari terrieri che vendono i loro ettari a prezzi vantaggiosi. Il paesaggio agricolo siciliano che cambia, sempre più colossi e multinazionali investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Così nell'isola, tanti proprietari terrieri vendono i loro ettari a prezzi ovviamente vantaggiosi. Un bel affare, si va dai 1.500 e 3.000 euro l'ettaro di affitto all'anno, mentre chi propone di comprare può anche offrire oltre 30.000 euro all'ettaro. In campo una pletora di intermediari che agisce per conto di multinazionali europee, soprattutto olandesi e francesi, ma anche di paesi extra-Unione Europea. I campi dell'entroterra e del Trapanese, da secoli a vocazione agricola, diventano quindi enormi campi di pannelli fotovoltaici, i più grandi d'Europa e tra i più grandi al mondo. Troppi costi, ricavi bassi, così proprietari terrieri vendono per un profitto sicuro. La provincia di Trapanese è stata da sempre famosa per le produzioni agricole di qualità, da tempi più antichi, ma dall'intervento dell'euro è successa una cosa molto complicata, nel senso che la materia prima, quindi le cose che si vanno a produrre, dal vino all'olio a tutte le cose che produce la terra, hanno preso un prezzo così basso che hanno interferito complessivamente nella gestione delle proprie attività. Molte persone non riescono più a sopravvivere e quindi con l'aumento delle materie prime, omnicomprensiva il carburante agricolo, ma anche la gestione viva dell'azienda agricola, non c'è stato più il ricambio generazionale che prima teneva in vita questo settore nella nostra provincia. Quindi ora ci troviamo un'età media di agricoltori di circa 57-58 anni e che non hanno più la forza di poter andare avanti. Rispetto a questo che cosa sta succedendo? Che molte aziende multinazionali, fondi di investimento, assicurazione, stanno tentando di fare business con l'agrovoltaico, con l'energia alternativa e quindi fanno delle offerte incredibili rispetto ai prezzi di mercato dei propri terreni e quindi cosa sta succedendo? Che tutte le aziende agricole stanno cercando di vendere i propri terreni per cercare di realizzare un minimo. La Sicilia sarà un grosso specchio che potenzialmente produrrà tanta energia verde o tanta energia pulita per come ce lo stiamo dicendo, però abbiamo un'attività di desertificazione dei nostri territori. Di conseguenza terreni che erano idoni per la coltivazione, di conseguenza per dare cibo per l'umanità, oggi daranno energia ma saremo un popolo affamato. Ponte sullo Stretto, per l'Associazione invece del Ponte, che vede insieme quanti sono contrari all'opera, ribadendo che non è una posizione ideologica ma argomentata e scientifica, si è ancora in tempo per fermare un'opera devastante. Per la società Stretto di Messina, per il Ministro Salvini, ormai ci siamo, imminente l'azione di esproprio dei territori con la conferma di questi cantieri che dovrebbero partire già la prossima estate. Il Ponte del No sa come stanno le cose e sa che al di là della propaganda i tempi non sono quelli che dicono il Ministro e la società Stretto di Messina. La prova è negli stessi tempi che loro hanno mantenuto. Una relazione che è stata proposta il 30 settembre e che aveva 30 giorni di tempo per essere approvata ci ha messo quattro mesi e mezzo, quattro volte e mezzo quello che sarebbe stato dovuto per legge. Allora vuol dire o che la relazione non era pronta, quindi non era vera quella scadenza, oppure che la società Stretto di Messina ha tergiversato e perso tempo essendo strapagata per rispettare dei termini di legge che non ha rispettato. Allora, in realtà, probabilmente, quella relazione era troppo complessa ed era probabilmente anche incompleta. I problemi irrisolti sono tantissimi e ancora devono venire al pettine perché è stato negato l'accesso ai cittadini e ai parlamentari a questa relazione di aggiornamento. Per cui la fase della discussione che la Stretto di Messina vuole negare e che la legge vorrebbe, diciamo, ridurre illegittimamente, secondo noi, bene, questa fase si sta aprendo ora ed è ora che entriamo nel vivo della discussione. Il rischio, però, di un'apertura simbolica di qualche cantiere o il rischio che i cittadini possano ricevere già dai prossimi giorni delle lettere per quanto riguarda gli espropri, non c'è? Ecco, perché ne siete sicuri di questo? Perché lo dice la legge. Non è che il fatto che la società Stretto di Messina abbia detto questo progetto mi piace, è bello, lo voglio fare, significa che è stato approvato. L'approvazione è solo interna alla società Stretto di Messina. Dopodiché parte la conferenza dei servizi con le comunità interessate che avranno l'onere e l'obbligo e l'onore di rappresentare tutti gli interessi delle città e si vedrà se questo progetto va veramente bene. Ci vorrà tutto questo tempo. Dopodiché ci vorrà l'approvazione del CIPES, cioè del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. ci vorranno quei permessi e quelle autorizzazioni che il vecchio progetto definitivo che era stato approvato dall'Astretto di Messina non ha ricevuto. Dopodiché scatterà tecnicamente la cosiddetta dichiarazione di pubblica utilità e da quel momento in poi potranno partire le lettere di esproprio. Al momento ancora il progetto è congelato. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ad Augusta per premiare i liceali vincitori del concorso Il Mito e il Mare. Sono 43 le opere realizzate dagli studenti dei tre licei artistici di Catania, Siracusa e Augusta che diventeranno preziosi nuovi arredi della sede degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. A premiare ragazzi partecipanti al concorso Il Mito e il Mare nel Salone di Rappresentanza Rocco Chinnici del Palazzo Comunale è stato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. Sono circa una cinquantina gli alunni emergenti artisti che hanno aderito alla manifestazione nata sulla base del protocollo firmato dalla Comune Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale il Liceo Meghera Artistico di Augusta l'Istituto Antonello Gaggini di Siracusa e il Liceo Artistico Emilio Greco di Catania con l'obiettivo di coinvolgere le scuole resche dando loro la possibilità di arricchire gli uffici dell'ente. A me è sembrata bella l'idea di coinvolgere la creatività dei ragazzi in un processo di crescita del sistema portuale che inesorabilmente influisce sulle sorti del territorio anzi posso dire che buona parte del futuro della Sicilia sia legato ad un sistema portuale dell'isola diversificato a seconda delle vocazioni territoriali il porto peschereccio, il porto commerciale, mercantile il porto turistico per il diportismo e sono convinto che il mare inteso come risorsa oggi più che nel passato possa essere il motore di crescita non solo della Sicilia ma delle regioni degradate dal punto di vista socio-economico quindi le regioni del Mezzogiorno d'Italia qui ad Augusta si sta lavorando con buona lena quindi l'impegno è quello di dare la possibilità durante l'anno di creare degli eventi misurati affinché la città possa vivere il porto o parte di esso e comunque queste opere possono anche emigrare andare in itineranti e essere conosciute anche da altri cittadini e anche a Catania e a Pozzallo perché effettivamente lo meritano Rieccoci in studio nel quartiere Libertà una voce si leva forte tra le strade quella dei residenti di Via Maggiore Toselli stanchi di vivere in condizioni di degrado e abbandono è uno stato di totale abbandono i marciapiedi sono tutti rotti la spazzatura ovunque rifiuti non raccolti è uno stato di totale abbandono è palese basta alzare lo sguardo e vedere in che situazione siamo dovrebbero essere in grado di ripristinare di rimettere a posto di sistemare perché oltre al degrado è anche pericoloso dove si cammina io ho una certa età e devo guardare per terra oggi siamo con il Comitato dei diritti del cittadino per segnalare il tratto di strada di Via Toselli che va da Via Cordova fino a Via Autonomia Siciliana dove c'è uno stato di degrado terribile abbiamo di tutto immondizia in mezzo alla strada marciapiedi terribili con escrementi di cani alberi che non vengono potati da anni potrebbero cadere sopra le macchine ma l'amministrazione non interessa abbiamo buche nelle strade buche nei marciapiedi dove escono topi che invadono i cortili condominali e nel caso anche gli appartamenti abbiamo persone che si conservano il posteggio con del materiale improvvisato e nessuno interviene e dice niente spesso il posteggio dei disabili è occupato da macchine senza pass le macchine sono in seconda fila e i camion non possono passare e quindi si viene a creare una confusione terribile con claxon che suonano all'impazzata motorini sopra i marciapiedi praticamente c'è di tutto l'amministrazione comunale che cosa vuole fare? siamo abbandonati va sempre peggio anni fa non era così adesso siamo nel degrado più assoluto guarda io le posso dire che come bar ho l'organico almeno 5 volte la settimana però ogni volta il contenitore sta almeno 20 giorni fuori e non passa mai nessuno dobbiamo fare 20 telefonate o mandiamo l'appi alla rap e poi forse vengono gli alberi che non si potano mai e tra poco cadono immondizia per strada qua c'è un avvallamento che da un momento all'altro sprofonda che sempre quando piove più o meno d'acqua l'acqua arriva fino dentro il comitato per i diritti dei cittadini questa volta si sposta in centro città ma la situazione non cambia anzi addirittura constatiamo un peggioramento rispetto alle periferie eravamo convinti che il tema e il problema fosse soltanto delle periferie di questa città ci rendiamo conto che effettivamente non è così dobbiamo riconoscere che purtroppo siamo all'Orlando VII molti non sanno a Palermo che Orlando ha fatto il sindaco per sei volte ma di fatto lo ha fatto scusate il besticcio di parole ma il risultato è che la galla è l'Orlando VII perché è la settima volta di Orlando perché non è cambiato assolutamente nulla in questa città Alla sala teatro di Villa Angela a San Giovanni La Punta in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione si è svolto un convegno sulla disabilità e riabilitazione In occasione del sessantesimo anniversario della fondazione di Villa Angela a San Giovanni La Punta si è svolto il convegno sulla disabilità e riabilitazione nel ricordo e in continuità di padre Ugo Aresco molti illustri relatori hanno impreziosito con la loro presenza questo importante momento scientifico nelle varie sessioni dal titolo La cura del cuore Qualsiasi luogo di lavoro è un contesto sociale la cui qualità dipende dalla volontà e dal desiderio di costruire relazioni di valori e virtù sociali da parte dei singoli componenti La disabilità è maestra in se stessa perché? Perché ci mette davanti alla verità della persona ci fa capire che la persona è importante nonostante ecco non sia così prestante così perfetta secondo canoni ai quali molte volte ecco cediamo Il Magistero della disabilità ci insegna ad accettare il limite nostro e altrui e ci invita ad integrare perché tutti quanti coloro che si sentono per così dire imperfetti possono fare comunione quando una persona si sente troppo completa ecco non riesce ad entrare in relazione con gli altri è il Magistero della disabilità quello che in questo momento forse ci serve nel mondo per scoprirci tutti quanti un po' più umili e bisognosi dell'altro Open Fiber conclusi i lavori per la rete all'Ascari internet ultra veloce per 2.597 unità immobiliari tra cui i locali della Guardia America della Caserma dei Carabinieri e della Polizia Municipale è già operativa all'Ascari la nuova rete pubblica di telecomunicazione a banda ultra larga Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente a cittadini imprese e professionisti del comune in provincia di Palermo di accedere ad internet con prestazioni efficaci all'avanguardia l'intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultra veloce la rete oggi disponibile all'Ascari raggiunge 2.597 unità immobiliari attraverso la tecnologia Fiber to the Home la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione ad un gigabyte al secondo e anche oltre tra gli edifici coperti ci sono la scuola elementare Madre Teresa di Calcutta la scuola media Falcone Borsellino i locali della guardia medica la sede dell'istituzione pubblica spazi socio-culturali ospedaletto gli uffici della condotta agraria e ancora la caserma dei carabinieri della polizia municipale e del distaccamento forestale il municipio per biblioteca comunale l'ufficio tecnico i locali culturali dell'ex macello e il centro per anziani di via Roma si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune l'infrastruttura tecnologica infatti è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga gestito da Infra dell'Italia società del ministero delle imprese e del made in Italy con il coordinamento della regione siciliana molto ridotto l'impatto per la posella fibra grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti giornata del Braille per far crescere la società dalla notte bianca nel polo tattile multimediale di Catania oasi di accessibilità forti emozioni In occasione della diciassettesima giornata nazionale del Braille abbiamo organizzato la notte bianca al polo tattile multimediale di Catania un'oasi di accessibilità dove intendiamo offrire attraverso l'esperienza tattile delle emozioni autentiche forti che speriamo rimangano indelebili nel cuore e nella mente dei nostri visitatori così da contribuire a quel processo di arricchimento di crescita di miglioramento personale a cui tutti dobbiamo aspirare perché tutti dobbiamo migliorare perché se non miglioriamo noi stessi non possiamo di certo migliorare la società Con infinito orgoglio oggi durante l'apertura del polo tattile multimediale abbiamo registrato centinaia di visitatori moltissimi turisti e famiglie che si sono molto sorpresi della possibilità di avere nella città di Catania una struttura polifunzionale come quella del polo tattile multimediale Con l'arrivo della primavera ritorna a Catania Lungomare Fest l'appuntamento con la pedonalizzazione gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso si potrà godere del lungomare senza auto per due domeniche al mese in modo alternato nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall'8 settembre al 6 ottobre al 9 giugno e dall'8 settembre al 6 ottobre per due domeniche al mese in modo alternato nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall'8 settembre al 6 ottobre l'esecutivo comunale ha previsto che durante gli appuntamenti primaverili e post-estivi con le passeggiate all'aria aperta e senza pericoli degli auto si promuovano eventi attrattivi come quelli sportivi culturali animazione e anche mercatini di prodotti artigianali proprio a ridosso del mare della scogliera tra le piazze del lungomare recentemente rinnovate dal comune e attrezzate per i giochi il fitness e in generale lo svago e il tempo libero in occasione della ricorrenza giubilare dei 400 anni del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia la fondazione Sicilia presenta la mostra le estasi di Santa Rosalia fino al 19 maggio nella Pinacoteca di Villa Zito saranno esposti alcuni straordinari capolavori della storia dell'arte moderna europea dedicati alla rappresentazione della patrona di Palermo capolavori della storia dell'arte moderna europea in mostra a Palermo con l'esposizione Le estasi di Santa Rosalia organizzata dalla fondazione Sicilia in occasione del giubileo dei 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia fino al 19 maggio 2024 la Pinacoteca di Villa Zito ospiterà opere di Anton Van Dyck Pietro Novelli Mattia Preti e Luca Giordano Raffaele Bonsignore presidente di Fondazione Sicilia prima mostra del 2024 che è stata organizzata in città in omaggio a Santa Rosalia il ritrovamento delle spoglie 400 anni fa di Santa Rosalia e quindi siamo anche per questa ragione contenti di avere inaugurato a Palermo la prima iniziativa in favore di Santa Rosalia dico anche che come sempre la fondazione fa abbiamo creato un ponte culturale con altri paesi altre istituzioni europee importanti abbiamo studiato due iconografie quella legata agli artisti siciliani al mondo che ha come guida Giordano Cascini il padre gesuita geografo di Santa Rosalia e l'altra che Van Dijk fa sua rivestendo in qualche modo l'iconografia e lo stile tradizionale ancora legata alla maniera degli artisti siciliani lo fa diventare nuovo vibrante barocco questa narrazione mette insieme una mostra che offre non soltanto ai palermitani che amano tanto Santa Rosalia la patrona di Palermo ma a un pubblico più allargato e più ampio la possibilità quindi di conoscere quanto l'iconografia di Santa Rosalia abbia oltrepassato diciamo i confini siciliani per arrivare fino appunto a raggiungere e ad attraversare le vicende europee moderne tutti gli aggiornamenti sul nostro sito teleguam.it e sulle nostre pagine social Facebook e Instagram vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi una buona prosecuzione con la nostra programmazione del fine settimana Grazie a tutti.